Allora, si preparano le slide queen, eccole là, le vedo belle fiorite, Maria e Louise, denti e le bobbola, ok, dai salite, all of fame anche per voi. Più veloci, più veloci, presentazioni, come nasce una buona presentazione, soprattutto come nascono delle buone slide, vi potrei dare indietro le quinte, che riassumo così, loro sono anche in grado di fare miracoli, voi gli mandate delle presentazioni brutte, fatte male, e poi miracolosamente escono delle cose che invece funzionano, e oggi ci raccontano invece come far arrivare una buona presentazione fin dall'inizio, quindi come pensarla, strutturarla, progettarla e poi farla diventare una presentazione di successo. A voi. Sì, o no? Sì, grazie. Allora io ho sempre un problema col telecomando, come sanno tutti, e quindi adesso lo provo e giro. Buongiorno, 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 non ce la si fa, adesso lo faremo senza slide, ok, lo so, lo so, faccio slide, ma non sono capace a parlare in pubblico. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare Freelance Camp, perché anche per quest'anno, per il terzo anno consecutivo, ci accoglie, quest'anno in una location pazzesca. Siamo le Slay Queen e la nostra missione è quella di salvare il mondo dalla presentazione brutta e efficace. E cosa vorremmo? Vorremmo che uscite, usciti, scusate, da qui, anche voi vi uniste al nostro esercito. Esempio, noi siamo venute giù in treno, Milano-Roma, Freccia Italia, Trenitalia, Freccia Rossa, Italo o qualche era, un treno business pieno di persone, un terzo attaccato al cellulare, un terzo che leggeva dei libri, un terzo che picchiettava ossessivamente sul computer facendo delle presentazioni. orrende, io ho fatto tutto il treno, orrende, basta, non se ne può più, non se ne può più, di tabelle Excel messe dentro alle presentazioni. Si può parlare con i numeri, con le parole, con le immagini, con i grafici, con l'infografica, basta porsi delle domande prima di iniziare. Allora, io sono Marie-Louise Denti, ho dovuto guardare, e la mia partner in Sly, quella bionda, io sono Elena Bobbola, effettivamente dice che sono quella bionda, così dicono. E questo è il nostro look solito, cioè tutte le mattine noi usciamo, ci svegliamo e ci mettiamo delle meravigliose collanine hawaiiane. Ma perché? Perché? Perché in questo momento noi che veniamo dal Grande Nord, sentiamo dentro di noi ancora l'estate, volevamo portarvi un po' d'estate e chiedervi se volevate surfare con noi. Siete pronti a surfare? No, dormono tutti, vorrei fare un talk al mattino. Avete voi l'estate ancora dentro? No, se no. Bene. Ok, dieci pillole, dieci, dodici pillole. La prima domanda che dovete porvi è conosco la mia audience, cioè conosco il pubblico a cui andrò a parlare? Diciamo che la comunicazione si basa su tre elementi fondamentali, c'è un mittente, che nel caso delle presentazioni è lo speaker o le speaker, c'è un destinatario, che è il pubblico, e c'è un messaggio, che nelle presentazioni si sdoppia tra quello che dovete dire voi e quello che il vostro pubblico guarda, cioè le slide. Ora, io sono una ragazza, passatella, comunque sono una ragazza, una giovane donna, e quindi quando faccio le presentazioni e i talk come in questo mi faccio sempre la domanda, come mi vesto, devo andare dal parrucchiere, te come ti vesti, come ci addobbiamo per questo talk? Perché mi devo presentare in pubblico e come dicono gli americani non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. E infatti noi vogliamo comunicare serietà. Serietà. Noi parliamo in modo a meno di cose molto serie. Ma cosa capita? Che molto spesso questa domanda si fa sullo speaker, ma il messaggio viene vestito in un modo che è veramente banale. Banale non è originale, molto spesso è anche poco leggibile da parte del pubblico, e quindi poco fruibile. E il pubblico, secondo me, va sempre rispettato, per cui l'impegno che voi mettete nella preparazione del discorso, nell'aspetto del public speaking, quindi di prepararlo, lo stesso impegno dovete metterlo sulle slide. E non è vero che le slide non servono, perché le slide servono a fissare meglio un messaggio nella vostra memoria, perché quello che io voglio è che voi usciate di qui, ed è il mio obiettivo di speaker, e vi ricordiate qualcosa che vi ho detto, qualcosa di queste slide, qualcosa del mio discorso. Calcolate che in una giornata come oggi voi sentirete 15 talk. Io voglio che il mio sia memorabile. Quindi, qual è la direzione che devo prendere? Io devo avere il mio obiettivo da speaker, io ve l'ho detto, perché vi sto raccontando come io e Elena abbiamo costruito questo talk. Il vostro, mi faccio delle domande, e ho la fortuna di farlo al freelance camp, e loro le risposte me le hanno date, per cui ho detto che tipo di talk volete che costruiamo per i freelance. Un talk molto profondo, oppure un talk leggero, oppure un talk che dia degli elementi base, cioè le 10-12 domande da costruire. Devo dire che Alessandra, Silvia, l'abbiamo costruito insieme, pensato insieme. Quindi, deve essere strategico per me e deve essere pertinente per voi. Voi, in questo talk, dovete trovare delle cose che siano utili. Questo incontro genera la direzione che deve prendere. In più, come deve essere un talk delle slide originale, nel contenuto e nella forma. E noi abbiamo scelto, come voi volete vedere, una forma che sia hawaiiana, una forma che sia leggera, una forma che vi faccia surfare con noi. Anche perché al mattino. Il pubblico, quindi, deve essere coinvolto, ok? Perché il pubblico si aspetta di essere travolto da un'onda di informazioni, di emozione, e ho anche un mix and match delle due cose. Per cui, in questo, io do le informazioni quelle un po' noiosette, ma l'emozione... Io faccio la valletta, quindi... Tu fai la valletta. Sì, lei fa sempre la valletta. Battete le mani, fate cose... Siete svegli. Ma guarda come sono belli, sono belli, svegliano anche i tavolini. Ma il caffè? Adesso è il caffè. E quindi il pubblico deve essere coinvolto con... Potrebbe essere coinvolto con una metafora visiva, come in questo caso qua. Cioè, tutte le informazioni che vi danno hanno un fil rouge dal punto di vista visivo, ok? Sono molto semplici le slide, non c'è troppo testo. E, rullo di tamburi, non ci sono i punti elenco. Si può vivere senza punti elenco, sappiatelo. Soprattutto se parlate in pubblico. Si può fare. Si può fare. Adesso escono tutti. La citazione letterale. Adesso scappano. Li vedi. Viva. Come faccio a coinvolgere questo pubblico? Potete prepararvi un icebreaking. Icebreaking. Tra qualche mese mi trasferirò a Londra e quindi segno tutte le parole in inglese per imparare la pronuncia, che non mi riesce tanto bene. Comunque... Disagio. Ho del disagio dentro. Disagio. Pensate a chi lavora con lei. Il pubblico deve essere col volto. Come abbiamo detto che la comunicazione si divide in mittente, messaggio, destinatario, un pubblico... Sì, ciao. Un discorso ha un inizio, uno svolgimento e una fine. È il surfista. È il surfista. L'inizio è una delle parti più importanti. L'apertura, la soglia dell'attenzione di un pubblico, non voi che siete assolutamente i più fighi del mondo... I più belli del mondo, ma è sette minuti più o meno, dai cinque ai sette minuti, dopodiché lo avete perso. Poi ritorna magari a picchi durante il talk, però più l'apertura è forte, più voi siete dirompenti, più lo catturate. E quindi è facile che vi ascolti. E come potete fare? Potete essere divertenti, potete raccontare una storia personale, potete essere drammatici, potete fare una domanda, una domanda anche scioccante. Lo sapete che da oggi l'acqua della pasta bolla a 30 gradi? Cioè, dovete entrare a gamba tesa. Adesso scendo dal microfono a voi, quindi, vi faccio scappare. L'apertura non deve mai essere in contrasto con il vostro tone di voce, ok? Cioè, Elena è Dio che non ci prendiamo sul serio mai, mai. Non potremmo entrare con un'apertura drammata, perché scoppieremmo a ridere e voi notereste che stridiamo, cioè un attrito. Invece deve essere, siete voi che dovete sostenere il vostro discorso, per cui non c'è un modo vincente, c'è il vostro modo e se il vostro modo è allineato con i vostri valori sarà sicuramente vincente. Ricordatevi anche che non potete piacere a tutti, ok? Ci sarà sempre qualcuno che dice, sì però, queste due, che pizza, ok? Sì però, queste due non sono serie, ok? Perfetto. Non potete piacere a tutti. Così si risparmia tempo in due. Si risparmia tempo in due. Che è l'obiettivo di una buona presentazione di una riunione della vita, risparmiare del tempo che non abbiamo. Esce dal tuo lato business, madonna quanto l'amo. Scrivi il tuo discorso. Per essere, allora ci sono due tipi di speaker, quelli che hanno paura, tipo la sottoscritta, e quelli che mentono. Ci sarà sempre un pubblico che farà paura, anche se sei il più grande speaker del mondo ci sarà quella volta che veramente te la fai sotto, ok? Scrivi il discorso è il mio modesto consiglio. Io faccio così, adesso vi tiro fuori il pezzino. Abbiamo il discorso. Di solito me lo porto dietro come se per contatto dovesse entrare dentro di me. Noi lo scriviamo, lo rileggiamo, lo diciamo davanti allo specchio, facciamo i video, ci risentiamo, ci mandiamo gli spezzoni. Cioè è una tragedia, una tragedia. I nostri familiari non ci vogliono, cioè scappano, fuggi fuggi, perché è disastroso. E se non ve la sentite di scrivervelo, fatevelo scrivere. Me lo scrive lei, anche la mia parte. Lei? Là c'è una ragazza che scrive il discorso. Sì, sì, questa qui. Questo è il nostro metodo, ognuno poi può trovare il suo, non è che dobbiamo... Nella scrittura su Word, ad esempio, lì potete usarli bullet point, a manetta lì, sulle slide, no. E poi c'è anche questo bellissimo, bellissimo a mio parere, escamotage, che è quello di raccontare una storia, perché le storie rimangono più impresse al pubblico. Noi, in questo talk, la storia l'abbiamo raccontato, raccontandovi le Hawaii, perché è il nostro sogno. Più corsi vendiamo, più andremo, si avvicinerà al nostro sogno, ecco. E quindi la storia può essere, voi che la narrate, può essere anche una storia visiva, deve essere comunque coerente. Ogni scelta formale è una scelta di contenuto, ok? Quindi la vostra forma e il vostro contenuto devono essere coerenti per raggiungere focus on the point, cioè per essere efficaci, perché voi vi ricordiate, perché il mio obiettivo è che voi usciate di qui e vi ricordiate delle Sly Queen. Forse adesso tocca a te, perché non è che posso fare tutto io e scrivo e parlo e vado a comprare. Ma no, ma io faccio tutto. Dovete farmi il corso sul telecomando. E questo qui, la destra, e poi c'è la sinistra. Non c'è il corso sul telecomando. Vai, vai. Me le giri tu? No, no. Intanto l'hai scritto tu? Vai. Inizia la bionda adesso. Ma poi intanto continua. Dopo che voi o qualcuno avete scritto la storia, il vostro discorso, bisogna iniziare a farle ste slide. Usate il potere delle immagini. La banalità, ma non così tanto, perché altrimenti vedrei solo slide belle. Un'immagine più potente di mille parole. Sapete che per leggere venti parole in fila ci vanno mediamente sei, sette secondi in più che guardare un'immagine che rappresenta questo concetto? Lo sapevate? Tutti dormono. Vabbè, forse lo sapevano. Qual è l'obiettivo? Quando io faccio una presentazione, io voglio che le persone mi ascoltino, che guardino le slide. Perché tornate indietro? Così. Voglio che le persone della mia platea non facciano questo. Per leggerle. Quante volte vi capita, dalla platea, di fare così? Anche per noi che parlano, non è bello, è vedervi fare... Ok, che vi avvicinate a noi, ma in realtà non state leggendo. State leggendo, non state più cogliendoli insieme. Per questo è molto importante il potere delle immagini, ma non intese come a loro usiamo solo le foto. Per immagini, intendiamo immagini, numeri grandi. Posso anche scrivere solo un numero in una slide, diventa la mia immagine. Intendo un grafico fatto bene, libero dagli elementi di distrazione, libero da asci sordinate, numeri... Ho quegli fantastici grafici, non so se vi è mai capitato di vederli, dove per riuscire a capire qual è il numero di cui si sta parlando, io devo, dal pubblico, fare l'intersezione tra l'ascissa, l'ordinata, vedere che la colonnina dell'istogramma finisce tra 1000 e 1500 e immaginarmi che forse il dato di cui si parla è 1250. E non è scritto da nessuna parte, perché è stato incollato, come diceva Malou, il grafico di Excel. Ma scrivetelo questo 1250, magari, grosso. In quel modo le immagini parlano. Fare un talk, soprattutto in pubblico, non è mettere alla prova il pubblico per capire se sa fare, per esempio, le somme, per capire se sa vedere l'intersezione tra due linee. Semplificate le cose. Non è, sembra una banalità, però noi diciamo che ne vediamo tante di slide che non seguono queste cose. Se non esiste l'immagine evocativa, se non avete voglia di mettere il surfista, o mettervi voi nudi, non lo so, sul palco, mettete delle icone, delle icone intellegibili per il vostro pubblico. Ogni pubblico ha un immaginario di riferimento. Stolcherate il vostro pubblico. Cercate di capire che c'è davanti a voi. Come diceva Malù, chiedete agli organizzatori. È diverso l'immaginario di riferimento di una platea di freelance rispetto a quello di una banca. Ci siete? Che bello. Perché io continuo a rompere le palle finché non mi rispondete. Cerco anche di non dire le parolacce, ma ogni tanto mi scappano. Non ce la fa, non ce la fa. No, è un po' quello che diceva ieri perché c'è stato anche Luigi Centenaro, no? Diceva che diversi pubblici, quando lui va a fare il suo giro dai super masterizzati, si diverte meno che farlo al freelance camp. Infatti queste sono molto leggere, sono molto friendly, perché voi siete delle persone open mind, insomma. perché il freelance deve fare così tante cose e vede così tante cose ed ha un'apertura mentale così ampia che quindi si può osare anche di mettere un ragazzotto sul surf. Poi ci hanno chiuso qua perché siamo delle regioni e poi perché di solito io arrivo e non lo posso più fare. Hanno impedito che io vi mettessi così in imbarazzo di venire a farvi le domande direttamente. Ma abbiamo compreso che bisogna usare il potere delle immagini. Come le uso? Tutti quanti. PowerPoint. Come le inquadro? Le immagini nel mio stage? Nella mia diapositiva? Nel lucido. Nel lucido. C'è qualche fotografo? No. Ho paura che faccia una domanda. Cioè, per esempio, beh, c'è qualcuno che fa video mi pare di sì ma sono impegnati dietro di me davanti a me lì quindi mi toccherà dirlo a me. Avete mai sentito parlare della regola dei terzi? Usatela. Quindi, se so che è più efficace mettere gli elementi di interesse all'intersezione di queste fantastiche linee che uso per dividere in terzi la mia slide fatelo sappiamo che l'occhio umano guarda direttamente naturalmente al centro di un'immagine è caduto tutto non so cosa effetti speciali guarda al centro di un'immagine e poi inizia a vagare dove si ferma? di solito si ferma nell'intersezione di queste linee corretto? l'ho spiegata correttamente? quindi mettete la storia il vostro punto di interesse correttamente al centro della slide se non sapete come riquadrare le cose e se ci sono altri elementi di interesse un'icona una freccia quello che vi pare provate a metterlo sull'intersezione di quelle linee vedrete che le persone se lo ricorderanno di più aiutate il vostro pubblico a ricordare quello di cui state parlando non deve essere sempre una fatica è già una fatica a parlare per voi quando state parlando davanti a un pubblico fate in modo che la vostra scenografia supporti il vostro discorso perché è quello che dico sempre che l'abito fa il monaco che forma e contenuto devono andare necessariamente insieme perché se creo troppa distonia faccio affaticare il mio pubblico wow distonia oggi oggi grande portatevi sempre dietro una partner che vi faccia da contrapunto questo aiuta questo aiuta comunque un sacco se potete se potete fare dei talk in due sicuramente aiuta voi che tanto avete paura come tutti c'è qualcuno che non ha paura di parlare in pubblico tu vieni grande grande due persone comunque su quante siamo cento e passa portatevi qualcuno io posso venire anche ai vostri edito cioè nel senso posso anche sempre fare la spalla non c'è problema io vengo ho sempre un po' paura non mi dovete parlare quelle quattro ore prima però poi vado io invece parlo tutto il tempo prima perché sono agitata e quindi inizio non so perché nessuno vuole venire a fare colazione con me per esempio se devo parlare al mattino perché gli ripeto tipo il discorso sette otto volte forma e contenuto insieme non posso parlare di cose serissime presentandomi per esempio così se voglio che il messaggio passi in modo istituzionale se voglio che il mio messaggio abbia un contesto più informale posso anche farlo e posso metterci il surfista nelle slide e poi curate la scelta delle parole usatene poche pochissime parole nelle slide cinque sei parole semplici non scrivete prossemica che è una delle mie parole preferite la mia è carotaggio esatto o cornucopia cornucopia anche o cornucopia perché perché sono comunque parole un pochino più complesse da sciogliere per il vostro pubblico che magari sta pensando a queste parole qui mentre parlate e le avete perse usate i verbi informativa evitate le negazioni perché inizio a parlare con tutti i non e scrivo un sacco di non nelle mie slide crea un po' di fatal error nelle persone che mi stanno ascoltando perché iniziano a pensare esattamente il contrario di quello che io volevo trasmettergli perché la stessa cosa avremmo potuto mettere usa parole semplici non usare parole difficili usa parole semplici è più immediato non usare parole difficili stavate pensando alle parole difficili la classica cosa non pensare all'elefante rosa che vola state pensandoci tutti bella questa hai visto? ammazza te ho visto ho studiato e poi semplificate il discorso less is more noi potremmo parlare 16 ore e forse anche di più io forse anche 24 in effetti su come fare delle presentazioni efficaci su come rendere le slide memorabili possiamo parlare su come scegliere le immagini anche per un'ora e mezza però semplifica sareste tutti morti che già li vedo provati semplificate se poi ci sono degli elementi da approfondire sarà il vostro pubblico a farvi delle domande tanto voi siete super preparati quindi comunque le risposte le avete e poi questa è la slide preferita di Malou no avete notato questa slide la perfezione l'occhio della tartaruga che vi guarda cioè è top è top l'ha fatta lei comunque volevo sottolineare così perché abbiamo un piccolo ego piccolo piccolissimo stabilite un contatto visivo con le persone questo lo dicono anche nei corsi di public speaking però è un consiglio che noi vi vogliamo lasciare e ci sentiamo di darvi perché se io parlo tutto il tempo guardando lei tutto il resto della sala si sente esclusa invece il mio obiettivo è di includere di abbracciare il mio pubblico di non mettere una barriera tra me e voi quindi allenatevi a guardare tutta la sala ci sono vari modi mettete degli amici in sala parenti tipo là là ci sono davvero dislocati non vicini e guardate loro così passando da uno all'altro sembra che sto guardando tutti oppure nel momento in cui inizierete a non avere più così paura di parlare in pubblico non servono gli amici ricordatevi di guardare tutta la sala in tre quattro punti aiuta un sacco io di solito mi porto gli amici comunque li obbliga sì sì cioè siamo venuti tipo da Biella e un sacco di persone esatto perché così gruppo vacanze Piemonte assolutamente ho anche scoperto di essere l'unica sabauda io quindi e quindi l'ultimo segreto è provare 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 lo dicono le slide queen lo dicono chi fa public speaking forse lo dicono anche gli attori provate il vostro discorso guardatevi riguardatevi correggetevi fatevi correggere registratevi riascoltatevi anche se so che la voce a uno non piace risentirla ma fatelo perché aiuta veramente un sacco fate vedere le slide a qualcuno prima di fare un talk e poi come ultima cosa vi chiediamo di surfare con noi di seguirci e ci possiamo trovare dal vivo solamente un'altra volta perché noi facciamo solamente un corso pubblico aperto ai freelance perché per il resto sono attività che noi facciamo in azienda nascoste nascoste così non dobbiamo parlare in pubblico ed è al digital update poi lei forse ha un codice ha un codice sconto io no perché non ricordo le cose ma se volete a novembre ci potete ancora vedere dal vivo per una giornata intera di laboratorio o se no ci trovate online su instagram nelle stories io riprendo tutti adesso passerò la giornata a riprendere tutti e nella nostra newsletter in cui diamo dieci consigli su come presentare al miglio le vostre slide grazie mille grazie grazie